Federico Di Francesco, il Bologna è tornato a vincere, ce n'era bisogno dopo una settimana e un periodo un po' travagliato? Sì, sicuramente è stato un mese e mezzo un po' particolare perché comunque la vittoria non arrivava, un po' di situazioni un po' particolari soprattutto in campo quando molte volte abbiamo trovato il vantaggio e all'ultimo minuto ci è stato tolto. Ci siamo ripresi anche caratterialmente, per me abbiamo fatto una buona prova e sono veramente contento. Tu sei stato un grande protagonista domenica in campo per questo passaggio a Zemaili che poi ha servito destro e ha fatto gol, sei stato protagonista anche curiosamente per il fatto che tuo papà era in panchina dall'altra parte, che cosa ti ha detto della tua prestazione? Era arrabbiato perché alla fine il risultato non era dalla sua parte, per me è stata una bella soddisfazione perché comunque non giocavo da un po', ho giocato poi contro mio padre e sinceramente non mi aspettavo di giocare, è stata una bella soddisfazione vincere contro di lui, e diciamo farlo anche un po' rosicare perché comunque in famiglia c'è sempre stata un po' questa rivalità tra me e lui, ma una rivalità sana. Adesso siamo 1-0 per lui, vediamo le prossime, 1-0 per me scusate, vediamo le prossime volte. In realtà questo è stato un derby familiare a tutto tono, nel senso che abbiamo visto anche che in tribuna c'erano i tuoi nonni, molto coinvolti, da che parte erano schierati, puoi dircelo? Mio nonno, boh, ti fa Bologna, l'ho già detto molte volte, mia nonna invece sperava che vincesse il Sassuolo, io segnassi, però ho detto nonna, ti fa il più piccolo? No, no, io ti favo il Sassuolo. Qui diciamo in famiglia c'era anche mia mamma che ti fa per me, i miei fratelli, c'era diciamo un po'... Alla fine dai penso che siano tutti contenti anche così perché comunque hanno visto giocare me, è andata bene, sono contenti. Grazie a tutti.